Oh! Attento, Boots! Ops! Wow! Guarda quanti sentieri ci sono! Quale sentiero ci porterà fino in fondo? Lo so io, lo so io! Se avete intenzione di arrivare in fondo allo scivolo, scegliete i sentieri con i numeri pari. I numeri pari? Io ho imparato i numeri pari a scuola, Boots. Zero, due, quattro, sei, otto... Sono tutti numeri pari. Cominciando dallo zero, saltiamo al due. Poi saltiamo al quattro e poi saltiamo al sei. Se saltiamo ancora, dove arriviamo? All'otto! Esatto! Quindi, mentre scendete sullo scivolo, ricordatevi di prendere i sentieri con i numeri pari. Buona fortuna! Grazie, Monopattino! Zero, due, quattro, sei, otto sono numeri pari in matematica. E noi dobbiamo scegliere i sentieri con i numeri pari. Ci sono altri sentieri! Uno, quattro e sette. Quale dei tre è un numero pari? Giusto! Il quattro! Sei bravissimo in matematica! Boots! Hai preso il sentiero sbagliato! Ops! Avrei dovuto scegliere un numero pari! No, 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 Boots! È la strada sbagliata! Ti prendo io! To the rescue! Io so di chi si tratta! Diego! Grazie, Diego! Sì, grazie mille, Diego! Grazie! Niente, my friends! Sì, che forza! Ecco la pista di pattinaggio! Ma l'entrata è bloccata da quelle ruote, Diego! Dobbiamo riuscire a spostarle! Andate via! Questa pista di pattinaggio è chiusa! Oh-oh! Sapete chi è quello? Ruotone! Proprio così! Sono Ruotone e la pista è tutta quanta per me! Meglio che pattiniate via! Pattini e skateboard! Lasciali in pace, Ruotone! La pista è di tutti quanti, sai? Sì! Per quale motivo vuoi impedire ai nostri amici di usarla? Perché io sono Ruotone! Posso fare quello che voglio! Beh, io sono Dora! E lui è Boots! E io sono Diego! Ti comporti come un prepotente e dovresti smetterla! Sì! Non è carino! Beh, ora vi sentite coraggiosi, pattini! Ma cosa farete quando Dora e Diego non saranno più qui? Chi si schiererà con voi? Lo farò io! E anche io! So will I! Li difenderemo anche noi! Lo faremo tutti! Uniti ci sosterremo gli uni con gli altri e così nessuno farà più il prepotente con noi! Proprio così! Beh, se vi sosterrete gli uni con gli altri allora forse farò meglio ad andarmene via! Wow! Sembra davvero molto triste! Forse dovresti parlare con lui, Dora! Good idea, cousin! Ruotone! Sì? Tutti i giocattoli con le ruote dovrebbero giocare sulla pista di pattinaggio senza essere disturbati! Tu puoi rimanere se prometti di comportarti bene e di condividere la pista con tutti! Davvero? Of course! Anche tu hai bisogno di stare con gli amici! Davvero sarebbero miei amici? Ma certo che sì! E se qualcuno dovesse fare il prepotente con te noi prenderemo le tue difese! Wow! Sarebbe fantastico! Ehi, Dora e Boots! Non vi andrebbe di fare un bel giretto insieme a me? Sarebbe davvero fantastico, Ruotone! Adesso allacciatevi le cinture! Sarà un giro emozionantissimo! Cinture di sicurezza! Così saremo al sicuro! Yuhuu! Tenetevi forte, amici! Questo sarà il giro più emozionante di tutti i tempi! Così ci divertiamo sulla pista! È davvero entusiasmante! Tra salite, rampe, salti e addossi, ora tutti siamo qui! Tante curve dai! Facciamo noi insieme ai nostri amici poi! È aperta la pista, lo sai! È aperta la pista, lo sai!